Ciao Auroville, sono Piero, sono un newcomer da circa otto mesi, nove mesi. Sono fotografo, ero fotografo professionista in Italia, a Roma, nel campo della pubblicità e poi negli ultimi dieci anni nel campo della documentazione artistica. Sto lavorando da quattro mesi per Auroville Art Service, mi trovo veramente soddisfatto nel poter dedicare la mia professionalità nel descrivere tutto quello che circonda il mondo dell'arte in Auroville, dalle sculture alla danza al teatro, è una cosa che mi riempie di grande soddisfazione. Grazie. Grazie. Grazie.